Tante concorrenti e anche molto giovani a questa edizione di Una Pizza per l'estate, presentati. Mi chiamo Giorgia Caporuscio, vengo dagli Stati Uniti, da New York, ho quattro pizzerie negli Stati Uniti insieme a mio padre. Che pizza proponi stasera? La mia pizza l'ho chiamata all'America, naturalmente ho fatto un omaggio a Giuseppe Tornatore perché sono 30 anni che è uscito il suo bellissimo film La leggenda del pianista sull'oceano e propongo una pizza con farina tipo 1, caputo, una crema di bufala, una ricotta di bufala, mozzarella di bufala, fiori di zucca, pomodori di cimelio e alla fine cottura ho grattugiato un cacciapavallo silano. Quali sono le differenze del palato di un consumatore di pizza napoletana e di un consumatore di pizza americana? Molto diverso, naturalmente mi sono trovata di fronte a un bel muro, però gli americani adesso vogliono assolutamente imparare da noi come mangiare, come mangiare il sanno e come mangiare il napoletano. Quindi sono stata da un certo punto di vista facilitata, dall'altro no. Grazie. Grazie.